allora ok ti faccio io la domanda ok si marco cosa ci fai vedere oggi ma non so allora ho portato la mia famiglia qui vieni qui la stemma di san marino vieni qui questo è fatto da fernando casali che è fatto tutto a mano forse questo è fatto nell'anno settante non lo so allora noi americane abbiamo fatte bene che lo sai cosa è quello ok allora vieni qui guarda il picciotto che abbiamo fatto in ruoto dai ciao perché ma questo marco cosa hai fatto l'hai comprato l'hai fatto a te oh non sembra che è un burrito e ho fatto tutta l'anno ci metti tu vai metti qui tutto questo è il prosciutto che abbiamo fatto noi sotto e vuoto che io ho imparato dei vecchi che dai vieni con me ciappole guarda ok allora non sembra americane non ha fatto il prosciutto proprio come deve fare il prosciutto non c'è il mio gordin non c'è il consapevole Grazie.